Ciao ragazzi belli e bentornati in questo nuovo video in questo video vi farò un piccolo spoiler di come sta venendo il mini movie perchè si è unistato alle prime parti dove sono appunto le migliori amiche eccetera eccetera ed ecco qua i personaggi, ho fatto vedere solo i personaggi che alcuni perchè non voglio tanto spoilerare quindi farò vedere solo quelle che sono state scelte questo qua vabbè è il mio ok poi abbiamo quello di sere oh mio dio aiuto cosa ho fatto allora comunque abbiamo quello di sere adesso facciamo anche questo video per le pre scelte quelle che sono state scelte se va bene l'ok come avevo fatto questo qua è quello di sere poi abbiamo quello là di viola e infine abbiamo quello là di Isabella quindi sono tre appunto gli ok e spero che vadano bene quindi ve li rifaccio vedere una a uno per vedere se appunto va bene per la pelle ho messo questa qua l'ultima ecco poi ho messo questi capelli 13 il front hair 85 e questi qua 80 gli occhi li ho messi 72 le pepille 2 bocca 11 il naso 68 e vabbè le sopraccigliatri normali poi questi qua ho messo il 64 vedete questo qua il top 2 55 10 24 e 43 e il colore tipo ho messo tipo uno fra questi ti aiuto tipo questi qua e poi di accessorio ho messo le ali 2 e poi ho messo le ali 2 la coda 27 e questo qua la croce tipo l'orecchino 34 e basta e questa qua è la nostra cara serie e poi andiamo e poi andiamo a viola ecco viola viola l'ho fatto con gli occhi 72 con tipo una specie di verde acqua con il nero gli occhi cioè le pupille 6 che sarebbe il cuore la bocca 11 probabilmente poi la cambierò l'accessorio 25 e vabbè sempre la cosa come si dice le sopracciglia normali poi questo l'ho fatto 96 la t-shirt e tipo ho messo un colore fra questi celesti o fra questi questi perché non mi ricordo il colore e le maniche ho messo 31 e ho messo i pantaloni 21 e le scarpe 39 poi ho messo il cappello 55 aiuto no 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 ho cambiato colore oddio ok metto questo colore se ti va bene ecco qua ok cambiamo anche la coda allora comunque passiamo questo qua è 42 e la coda non so cosa ha cliccato ma diventata così metto questi due colori ok ecco qua il tuo occhio e infine ci sta quello di sabella che ha gli occhi sempre 72 che è una specie di lilla come occhi lo scherzo 58 le pupille nere le sopracciglia normali la bocca vabbè una che mi piaceva e ovviamente le lentiggini che sarebbero le due i capelli ho messo questi qua 98, 113 e 73 con questo colore e poi ho messo 72 la t-shirt e poi ho messo 56 questo e poi ho messo